Il giorno e la storia. Oggi è il 20 dicembre. 1989. Il presidente George Bush invade Panama per rovesciare il governo Noriega. 1973. Madrid. Attentato dell'ETA ai danni del primo ministro, Luis Carrero-Vlanco. 1917. URSS. Fondata la CECA, antenata del KGB. Commenta il fatto del giorno Andrea Cangini, direttore del Il resto del Carlino e quotidiano nazionale. Oggi ho scelto di ricordare la figura di Pier Giorgio Welby, ovvero di parlare di un tema importante, l'eutanasia. Grazie a tutti.